Quando si tratta di decidere dove andare in vacanza, oltre il 40% degli italiani sceglie i mari della nostra penisola. La Sardegna è tra le mete preferite, con le sue coste e le sue isole, che offrono paesaggi e opportunità sempre diverse. E infatti, a nord del lusso e dei locali scintillanti della costa smeralda, c'è la ricchezza sfrontata della vegetazione e del mare dell'arcipelago della Maddalena. Otto isole maggiori, otto gioielli incastonati in acque cristalline, un parco naturale protetto, meta ogni anno di migliaia di turisti. Fantastica, abbiamo già deciso che verremo l'anno prossimo. Sei presente i tropici, Tahiti, quando vedrai le spiagge di Caprera e della Maddalena saranno senz'altro migliori. Non ci si può stufare delle bellezze della vita, questa è la bellezza della vita. Ogni isola è diversa dall'altra, ogni caletta ha qualcosa di speciale, cambiano i profumi, la vegetazione, con piante che si possono trovare solo da queste parti e cambiano i colori del mare con tutte le gradazioni dell'azzurro e del verde. Sette isole che sostanzialmente rappresentano il meglio della bellezza in termini di natura, di ecosistema e una destinazione assolutamente apprezzata sia in Italia che all'estero. Ricercano la natura incontaminata ma cercano anche le tracce di storia che questo arcipelago porta in dote. La Maddalena è l'isola più grande, la più abitata, poi c'è Caprera dove ha vissuto per lungo periodo Giuseppe Garibaldi, quindi Budelli, famosa nel mondo per la spiaggia rosa, oggi inaccessibile perché per anni i turisti sconsiderati hanno portato via quella sabbia colorata frutto del deposito di frammenti sminuzzati di un microorganismo marino. E ancora l'isola di Santo Stefano, appena a tre chilometri quadrati, dove esiste un unico resort immerso nella vegetazione. Questo è il forte di San Giorgio, costruito su uno dei punti più alti dell'isola di Santo Stefano. Da qui Napoleone Bonaparte nel febbraio del 1793 fece sparare i suoi cannoni contro l'isola della Maddalena. E chissà se nonostante la battaglia il futuro imperatore si sarà fermato almeno qualche istante ad osservare questo meraviglioso tramonto.